Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono sempre io, Onda Marina Oggi apriremo una bustina di mostri ultra mostruosi, questa qua Non ho mai aperto una, non so come sono fatti i personaggi L'ho presa perché sembra molto interessante e carina Quindi se mi piacciono ne prenderò altre, farò altre aperture, se no no Allora iniziamo Allora ci sono due mostri, questo qua Che è una rana E poi questo qua, che è una sficcia di pagliaccio Qua c'è la checklist di tutti i mostri E due carte, che sono le carte di questi due personaggi E niente, spero che il video vi sia piaciuto Mi sono piaciuti molto questi mostri, quindi forse ne prenderò altre Spero che il video vi sia piaciuto Ciao, al prossimo video